Dopo sei settimane di stop, Gigela ha ospitato il mercato settimanale del martedì. Le bancarelle, così come deciso dall'amministrazione comunale di concerto con le organizzazioni di categoria, hanno preso posto in contrada a Marchitello, una soluzione tampone nell'attesa di individuare un'area definitiva. Ai venditori ambulanti però la scelta non piace, almeno al momento. Qua stiamo sbancando, facciamo ingassi da urlo. Perché in che senso? In questo senso, è la verità. C'è la cassa piena. Per me va bene tutti i posti, non c'è problema. Sta vendendo stamattina? Leggermente stai male. È una fase di sperimentazione, diciamo che per come è andata oggi non è andata bene. Perché? Perché praticamente hanno cercato di creare un'area mercataria a circuito, solo che ovviamente essendo che ci sono dei posti penalizzati all'interno della traversa, ovviamente i non contetti hanno montato in altri posti, diciamo, e perciò ovviamente là, già che non è una buona strada. Ancora peggio essendo che siamo rimasti in pochi, perciò non viene nessuno, comunque è sceso il sindaco, dice che ora provvederà, cercherà di sistemare le cose. Lei ha montato più di una volta a Gela, e dove le piacerebbe che si montassero le bancarelle? Più a centro, più a centro diciamo, campo sportivo, stazione. Dovrebbe cercare il comune di Gela, una zona abbastanza adegua, penso. Qua stamattina disagi, disagi, disagi ovunque. C'è una zona, quella a pochi passi dai palazzetti dello sport, lato nord, completamente isolata dall'arresto dell'area mercatale, e gli ambulanti protestano. Qua non passa nessuno, siamo morti. E niente, ora è passato il signor sindaco, dice che deve risistemare tutto di nuovo, perché qua non funzionano, le persone da questa fila sono passate tutte alla fila centrale, e ci hanno abbandonato qui. Siamo rimasti un gruppo isolati, perché tantissimi di quelli che erano passeggiati qua hanno scelto di montare abusivamente al centro, isolandoci da qua. Dunque, montare qua significa non farsi nemmeno, come diciamo noi, la croce. Questa è in perfetta regola. Sì, no, a voglia. Abbiamo pagato, io ho pagato 1.600 euro per mettere a regola con tutti i pagamenti. Sicuramente avranno fatto anche tutti gli altri, però penso di avere lo stesso diritto di lavorare e guadagnare come hanno fatto loro, come stanno facendo. Noi ce ne stiamo andando a casa. Qua non ha senso venire, ce ne stiamo andando a casa. Loro lavorano e noi ce ne stiamo andando a casa. Ma questo problema voi l'avete fatto risaltare anche all'amministrazione comunale? Sì, stamattina sì. E così vi hanno risposto? Vediamo. Speriamo che faranno qualcosa, non lo so. Per noi non va bene questa sede. Quale è una sede preferita? A Gela. Ci devono portare a Gela. Qua siamo alla macchitella, non siamo a Gela. Il vero mercato è al tribunale. E le bancarelle, le 257 bancarelle, ci vanno con gli occhi chiusi. E il singolo si deve interessare. Non è che noi stiamo dicendo che non va bene. Fatto solo in una via, che lo spazio c'è punta e punta, e ci sono circa 800 metri liberi. Non si sa perché sono liberi, non assegnati. Lì sorge un bel dubbio. E allora, e noi questi 800 metri ci possiamo collocare sulla strada principale e qua non si fa mercato.